Alessandro Milan, oggi a Lecco nella sede dell'ENAIP per presentare il suo libro I giorni della libertà. Di cosa parla il suo libro e perché ha accettato l'invito? Il libro è ambientato nella seconda guerra mondiale, sono storie vere di persone semplici che soprattutto a Milano hanno fatto la scelta di lottare per la libertà, quindi durante l'occupazione nazifascista hanno combattuto per cercare di riottenere la libertà. Mi fa molto piacere essere qui in una scuola professionale che prepara anche persone che si dedicheranno a quello che è il nostro cibo, che è il sostentamento e questo libro parla anche molto della fame, quella vera, che ci siamo dimenticati ma che durante la seconda guerra mondiale era un qualcosa di molto molto profondo. Ho fatto diversi interventi nelle scuole e siccome parlo di storie vere, di persone realmente esistite in alcuni casi che ho conosciuto, vedo che anche i giovani sono appassionati nel sentir raccontare storie di gente che ha vissuto davvero quel periodo. Tra un audiolibro e sfogliare un libro lei nota differenza? È un modo di fruire molto diverso. Nella contemporaneità effettivamente molti scelgono l'audiolibro, magari nei viaggi in macchina. Io personalmente sono ancora affezionato assolutamente alla carta, allo sfogliare il libro perché è un momento anche così molto intimo di riflessione, di isolamento in cui metti da parte il cellulare e ti dedichi a te stesso. Negli anni 2000 la lettura quanto prende i giovani? In realtà moltissimo, anzi il fenomeno per esempio delle booktoker, cioè i ragazzi che fanno le recensioni dei libri su TikTok. Adesso ormai ogni libreria ha una sezione dedicata proprio ai giovani, alla letteratura giovanile, ai consigli delle booktoker, dei booktokers e quindi in realtà il mercato editoriale proprio per i giovanissimi, vale a dire dagli 11 ai 15-16 anni, oppure c'è stata un'esplosione anche dei manga, è un mercato molto fervente.